Ciao a tutti e bentornati. Nel video di oggi andiamo a vedere insieme l'unboxing e la prima configurazione della nuova plafoniera che ho acquistato e cioè la Maxpect Jump L165. In particolare faremo insieme una panoramica di quelle che sono le diverse funzioni e le caratteristiche tecniche senza però scendere troppo nel dettaglio perché poi vorrei parlarvi in maniera più dettagliata di tutte le funzioni in un video dedicato. Questo però soltanto dopo aver testato questa plafoniera per qualche settimana. Per chi non la conosce la serie Jump è in pratica una linea di prodotti della Maxpect destinata alla tecnica di fascia intermedia quindi a tutti quei prodotti che hanno caratteristiche leggermente inferiori ai prodotti top però con un prezzo di vendita decisamente inferiore. Devo dire che ho pensato a lungo a quale potesse essere la plafoniera più adeguata alle mie esigenze e alle caratteristiche attuali della mia vasca e la verità è che non volevo fare un salto diretto da una plafoniera super economica a una plafoniera top come la Radeon XR15 che mi è stata consigliata da alcuni di voi. Sicuramente in futuro arriverò anche a montare una plafoniera come la Radeon però allo stato attuale vorrei andare per step e in qualche modo godermi il viaggio. Proprio per questo motivo alla fine mi sono orientato sulle plafoniere di fascia intermedia e in particolare su due modelli la Maxpect appunto e la Aqua Illumination Prime 16 HD che è di gran lunga la più diffusa sul mercato come plafoniera di fascia intermedia. Devo dire di essere stato molto ma molto indeciso fino all'ultimo perché entrambe hanno caratteristiche piuttosto simili, entrambe offrono una gestione tramite cloud, entrambe garantiscono una vasta personalizzazione dello spettro cromatico e delle schedulazioni ed entrambe hanno una potenza più o meno simile anche se in realtà la Maxpect ha 65 watt contro le 59 dell'Aqua Illumination quindi ben 6 watt in più che comunque non sono tanti ma fanno sempre comodo. Però ad essere onesti sono stati altri due i motivi per cui alla fine ho scelto la Maxpect piuttosto che l'Aqua Illumination. Il primo è che la Maxpect non ha una struttura a lente singola ma ha sei lenti distinte e questo dovrebbe garantire una migliore distribuzione della luce anche nelle aree più nascoste della vasca che potrebbero altrimenti risultare in ombra a causa della struttura della rocciata. E il secondo importantissimo motivo è che a differenza dell'Aqua Illumination la Maxpect fornisce nella confezione un braccio di metallo per il montaggio a bordo vasca. Questo per me ha avuto un peso fortissimo nella scelta finale perché in pochissimi casi il supporto di montaggio viene fornito con la plafoniera ma è sempre qualcosa che bisogna acquistare a parte e che nel migliore dei casi paghiamo almeno una cinquantina d'euro. Dopo questa introduzione direi che possiamo procedere all'unboxing. Partiamo dalla confezione che fa davvero un bel effetto. È una confezione molto minimal quindi senza troppe scritte, disegni, loghi eccetera e devo dire che l'arancione scelto come livrea per la serie Jump è davvero intrigante. Inoltre mi piace un sacco il contrasto tra l'opaco del cartone e il lucido della foto della plafoniera. Quindi nel complesso imballaggio davvero piacevole però andiamo avanti e vediamo cosa c'è all'interno. Allora in primo piano abbiamo subito il libretto delle istruzioni. Devo dire che è piuttosto spesso, comunque avrò tempo di studiarlo per bene nei prossimi giorni e poi farvi vedere tutte le possibili configurazioni in dettaglio. Qui invece abbiamo un foglio di plastica imbottito a proteggere la plafoniera da eventuali urti e devo dire che nel complesso i prodotti sono protetti piuttosto bene perché comunque la confezione è molto rigida e resistente. Qui abbiamo la plafoniera che andiamo a vedere bene da vicino. Allora il primo impatto è davvero buono, ad essere onesti credevo fosse un pochino più grande ma dal vivo è davvero compatta. Le dimensioni sono 222x176, 32 mm di spessore. Il peso però non è proprio trascurabile perché la sola plafoniera ha un peso di 800 grammi che per darvi un'idea è circa il doppio rispetto al peso dell'Aqua Illumination e in effetti tenendola in mano è piuttosto pesante. Forse per il fatto che parte della struttura sembrerebbe fatta in una specie di lega metallica. Non so se sia per dissipare meglio il calore o altro però comunque alla fine il peso non è un fattore che ci cambia la vita. Qui sulla parte superiore troviamo la ventola di raffreddamento che praticamente è a vista e che aspira l'aria da questa griglia che si trova nella parte inferiore. Devo dire che sono proprio curioso di vedere se la ventola è rumorosa o meno perché nella mia vecchia plafoniera trovavo la ventola di raffreddamento un pochino troppo rumorosa. Qui sotto vediamo anche le sei diverse lenti di cui vi parlavo prima che è un sistema che dovrebbe garantire una migliore copertura del fascio luminoso anche negli angoli un pochino più nascosti. In realtà le lenti non sono proprio tutte completamente indipendenti perché ad esempio queste due centrali hanno delle lunghezze d'onda diverse rispetto alle altre quindi diciamo che la disposizione dei led è opposta rispetto agli assi. In termini di par la Maxpect dichiara per questa lampada la copertura di un'area di 60 per 60 centimetri con circa 80 par negli angoli più remoti e un picco di circa 220-240 par nella parte più centrale con la lampada a 60 centimetri di distanza. Quindi in teoria nella mia vasca con un lato di 45 centimetri e quindi una profondità di 45 centimetri dovrebbe garantire la possibilità di illuminare adeguatamente anche i coralli che posizionerò nei punti più lontani dalla luce quindi sul fondale e negli angoli. Chiaramente sarebbe bello poter misurare i par direttamente in vasca ma non ho a disposizione il sensore per le rilevazioni quindi dobbiamo fidarci di quanto dichiarato dalla Maxpect. Proseguiamo adesso con l'unboxing. Qui nella parte inferiore abbiamo l'alimentatore con il cavetto per collegarlo alla plafoniera. Qui sopra invece abbiamo il cavo per la presa della corrente da collegare all'alimentatore. La presa è una presa asciuco quindi una presa tedesca per intenderci. Qui sotto invece abbiamo la staffa per il montaggio a bordo vasca. Questo è il supporto con le sue vitarelle che vedremo dopo e questo invece è il braccio in metallo. Come dicevo prima questo è un accessorio che quasi mai viene fornito in dotazione ma che deve essere sempre comprato a parte e quindi capite che averlo in dotazione insieme alla plafoniera fa una bella differenza. Di primo acchitto mi sembra molto resistente è fatto in alluminio anodizzato nero opaco che fa un effetto davvero fighissimo e dovrebbe garantire la possibilità di montare la plafoniera su vasche che vanno da un minimo di 40 centimetri a un massimo di 60 centimetri di profondità regolando appunto l'estensione del supporto. Arrivati a questo punto direi che possiamo procedere al montaggio e poi alla prima configurazione della plafoniera. Allora ho appena finito di montare la staffa a bordo vasca e l'ho montata in pratica con la minima estensione possibile sia in altezza che in profondità. Questo perché la mia vasca con un lato di 45 centimetri è in pratica la profondità minima supportata da questa staffa. Devo dire che comunque la staffa garantisce davvero molte diverse configurazioni sia in altezza che in profondità e inoltre giocando con queste due viti qui sul supporto a bordo vasca è possibile inclinare la plafoniera di circa 3 gradi in più o in meno per indirizzare meglio il fascio di luce verso il centro della vasca. Detto questo direi che passiamo subito alla prima configurazione. Una volta collegata alla presa della corrente possiamo procedere con la configurazione della lampada che va fatta attraverso l'app dedicata. Per scaricare l'app basta semplicemente inquadrare il codice a barre che c'è sul lato della confezione. Io l'ho già scaricata quindi possiamo procedere con la configurazione. L'unica cosa da ricordarsi è di tener premuto per 6 secondi il pulsante del wifi sul retro della plafoniera e questo per farla entrare in modalità configurazione attraverso il router wifi. Il primo passaggio è quello di creazione del vostro account che vi permetterà di associare un nuovo dispositivo alla vostra utenza e quindi accedere ai servizi cloud. L'attivazione dell'account avviene in pochi secondi basta semplicemente premere sul registra e confermare la propria email. Non vengono richiesti altri dati personali. Io l'ho già fatto quindi possiamo procedere con la configurazione però prima ricordatevi di impostare l'orario del server su Europa per recuperare le informazioni corrette sul fuso orario che saranno poi necessarie a programmare gli orari di accensione e spegnimento. Una volta loggati nell'app possiamo configurare un nuovo dispositivo semplicemente cliccando qui nel centro e questo attiverà la configurazione guidata. L'importante è assicurarsi di essere connessi ad una rete wifi da 2,4 gigahertz perché è l'unica frequenza supportata dalla plafoniera però non dovrebbe essere un problema perché questa è la frequenza standard per la quasi totalità dei modem. La schermata successiva ci spiega la procedura da seguire per resettare un dispositivo già configurato. Nel mio caso essendo un prodotto nuovo posso ignorare questo step e andare avanti. A questo punto dobbiamo inserire il nome della nostra rete wifi e la password per permettere alla plafoniera di connettersi alla rete. Dopo aver premuto su next si avvia la procedura che associa la plafoniera al nostro account per poi permetterci di utilizzare i servizi tramite cloud. È uno step piuttosto veloce e al termine comparirà il messaggio che ci avvisa che la configurazione è completata con successo. A questo punto possiamo vedere il dispositivo appena attivato nella home page dell'app e da qui possiamo procedere con i diversi settaggi dello spettro cromatico, delle schedulazioni e di tutto il resto. Appena entrati nelle impostazioni appare questo pop up che ci chiede se vogliamo sincronizzare l'orario della plafoniera con quello del telefono e direi che è bene effettuare la sincronizzazione per riuscire a programmare i vari timer in maniera più precisa. Da qui vediamo subito che ci sono due diverse modalità di utilizzo della plafoniera. La modalità auto e quella manuale. La modalità auto è quella in cui il funzionamento è affidato per intero alle schedulazioni che andiamo a definire programmando i diversi time point su una specie di linea temporale e per ciascuno di essi lo spettro cromatico e l'intensità che ci interessa utilizzare attraverso i cursori dedicati ai sei canali. È interessante notare che mentre spostiamo i cursori abbiamo anche sullo sfondo una simulazione di quello che sarà lo spettro cromatico per quello specifico time point. Nella modalità manuale invece non ci sono schedulazioni da configurare ma si procede a definire direttamente lo spettro cromatico e questo perché nella modalità manuale la plafoniera rimarrà fissa sullo spettro cromatico impostato e non si spegnerà finché non saremo noi ad abbassare manualmente a zero l'intensità dei sei canali sui cursori. Questa modalità può essere utile se ad esempio abbiamo necessità di effettuare la manutenzione al di fuori degli orari di accensione e spegnimento programmati e non vogliamo attendere appunto l'accensione automatica della plafoniera. Per aiutarci a programmare la plafoniera c'è anche una funzione chiamata easy setup che ci consiglia i settaggi più adatti sulla base della popolazione della nostra vasca. Come vedete infatti ci sono sei diverse opzioni che coprono le vasche monospecifiche, le vasche miste e infine c'è anche un'opzione per le vasche con soli pesci. Detto questo spero che questo video vi sia piaciuto ma soprattutto che vi sia stato utile in qualche modo e noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao! Ciao!